benvenuti benvenuti saluta ciao benvenuti a questa puntata di stampa evangelo facciamo vedere che oggi è una puntata un po particolare perché clara ha la febbre giusto clara quanto hai di febbre ieri quanto avevamo 38 ieri 38 oggi 37 e mezzo quindi oggi papà è anche incaricato della vigilanza sulla figlia malata vediamo salutiamo tutti marimar giovanni barbaro adriana di donato danilo bassan lo sai danilo bassan oggi firma l'editoriale sul quotidiano la croce sul quotidiano che tutti i giorni papà fa con giovanni marco tullio e altri gli altri amici oggi l'editoriale lo firma danilo bassan molto importante sul reddito di maternità e quoziente familiare ma rimara subito riconosciuto il tuo mal di gola c'è anche ma mamma guarda che ci saluta saluta ciao mamma ciao mamma bene e allora vanna che ti saluta anche ciao bellissima clara vanna 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 io sono brutto io sono brutto papà è brutto no papà è bello tutti ti salutano ottavio delutio adriana di donato guarda tutti quanti vero c'è don massimo lapponi sai che don massimo lapponi ci scrive da lo sri lanka in ansia in asia in asia addirittura pensa c'è paul freeman moreno lovat valeria annecchino andrea cimmino insomma siamo tantissimi anche nella diretta di oggi c'è anche mirco de carli lo saluti vedi bacioni a clara allora dobbiamo parlare oggi di questioni che hanno a che fare con il reddito di cittadinanza che si deve spendere in maniera morata sentite il catarro ecco questo è il catarro che sta inguagliando all'ottobre abbiamo cominciato il cambio di stagione che sta inguagliando la piccola allora parleremo dicevo del reddito di cittadinanza prima però come sempre passiamo dalla lettura del vangelo chiediamo ai nostri amici di fare un like alla diretta mi piace mi raccomando like alla diretta di condividerla sul loro profilo così tutti la possono vedere sui profili dei nostri amici e di mandare il link di questa diretta a tutti coloro che sono contatti di facebook o contatti di messenger così altre persone ancora possono guardarla e soprattutto la lettura del vangelo qual è il tuo vangelo preferito clara il vangelo di luca invece oggi leggiamo il vangelo di matteo matteo vabbè di solito è il vangelo di luca il preferito di papà è il vangelo di marco invece io vi ringrazio diretta vero ci hanno telefonato in diretta guarda che roba insomma ci ha telefonato mirco fanizzi del pdf di puglia perché c'è una questione che riguarda il comune di monopoli pensate un po' insomma quindi facciamo salutiamo anche mirco fanizzi saluto saluto tutti saluto giovanni mazzotta saluto daniela postiglione giovanni mazzotta ha già detto il 10 novembre sarò ad assisi quindi saluto il pdf umbria c'è paola belletti la mamma di quattro bambini saluto a ludo il suo piccolo bambino che è malato ma non gli vogliamo tanto bene a ludo è il nostro fratellino preferito saluto valentina baldacci andrea cimmino anna carrabba c'è mario negri mauro chialastri brava roberto frecentesi è un'altra persona che scrive sul quotidiano la croce lo scrive scrive articoli bellissimi è uno dei nuovi acquisti diciamo così del quotidiano la croce e scrive cose davvero molto belle andrea a battistella dice ciao a treviso non sarò a treviso ma sarò a chioggia la settimana prossima sempre in veneto quindi ci sarà un modo di incontrarci la pongiruppi la uterita sai te la ricordi insieme a me la pongiruppi eccola lì clara scritturata per la pdf tv sul campo ciao piccoletta ciao un saluto allora dicevamo il vangelo preferito di clara è il vangelo di luca ma oggi ci tocca il vangelo di matteo e vabbè ci dobbiamo leggere il vangelo di matteo che possiamo fare vuoi leggerlo tu sei sicura ce la fai dai leggi in quel tempo gesù disse ti benedico padre signore nel cielo della terra perché hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli altri intelligenti intelligenti e lei rivelate ai piccoli sì o padre perché così è piaciuto a te tutto mi è stato dato dal padre mio nessuno conosce il figlio se non il padre e nessuno no e nessuno conosce il padre se non il figlio è colui al quale il figlio lo voglia rivelare vietate venite a me venite a me voi tutti che siate affaticati oppressi e io vi ristorirò prendete il mio gioco sopra di voi imparate da me che sono mite e umile di cuore e troverete ristorio per le vostre anime il mio gioco infatti è dolce e il mio carico leggero che bello la parola del signore vero amore che bella questa frase così enorme venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi vedi che bello il messaggio di gesù venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi venite a me che sono mite e umile di cuore ma che vuol dire mite mite vuol dire che è una persona gentile è una persona che non ha voglia di far del male agli altri ma è mite come un agnello hai presente un agnello un agnello è mite è un animale mite e gesù è infatti l'agnello sacrificale per tutti noi e lui dice il mio agnellino è bellissimo infatti come gesù il mio gioco è dolce e il mio carico leggero non è la libertà quella di fare qualsiasi cosa io voglia no la libertà è scegliere la verità prendere il gioco della verità sulla propria spalle sapendo che la verità è dolce e il carico della verità è leggero allora salutiamo anche lena bernardini la salutiamo gabriella violi daniela tascini abbiamo letto una pagina di vangelo meravigliosa vero clara l'hai letta benissimo tra l'altro hanno detto che leggi molto bene sai hai letto i commenti guarda guarda nicola di matteo che ti ha scritto saluta zio nicola saluta nicola vedi che scrive vedi bravissima clara e un applauso a papa mario che passa la fede a sua figlia la questione fondamentale della fede perché noi facciamo se un amore di bimba perché perché trasmettere la fede è il lavoro che devono fare i genitori questo è il lavoro che facciamo infatti tu oggi anzi dalla settimana prossima siamo bellissimi la settimana prossima comincerai andare comincerai andare da padre maurizio a catechismo da padre maurizio botta vero va bene allora io vi saluto vi ringrazio molto allora il tema che affrontiamo oggi è il tema della moralità perché perché ieri luigi di maio ha detto che con il reddito di cittadinanza non potranno essere compiute spese immorali è indicato come esempio di spese morale ma il catarro vai 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 fa sistemati indicato come spese immorali le sigarette gratte vinci intanto gabriella violi non riesce a condividere la diretta sulla sulla propria pagina se qualcuno vuole aiutare gabriella a fare la condivisione credo che sia possibile fare la condivisione sei tornata allora dicevamo il vice premier luigi di maio ha indicato come spese immorali le sigarette e i gratte vinci la vice premier dell'economia ha detto che se con il reddito di cittadinanza vai da un euro ti mandano il controllino della guardia di finanza pensate poi il controllino della guardia di finanza ora questo tema mi interessa molto perché è una sfida è molto interessante l'idea di mettere sul divano coltiario amore preferisci il tema della moralità dicevo è molto interessante perché voglio capire a questo punto qual è il terreno della moralità davvero gratte vinci e sigarette sono la questione centrale oppure dare da un euro è immorale e merita l'arrivo della guardia di finanza questa è buona non fare la stupirina il papà sta dicendo cose importanti amore va bene allora la questione è questo tipo di moralità io l'ho chiamato il moralismo dei senza morale lo ripeto il moralismo dei senza morale è davvero qualcosa che mi preoccupa perché nel frattempo invece per esempio c'è un altro ministro laura castelli dice che andare dall'unieuro merita poi il controllo della guardia di finanza se ci spendo lì i soldi del reddito di cittadinanza scusate ma io magari potrei andare a comprare uno spremiagrumi per la nostra bimba qui che ha bisogno di vitamina c o uno scaldavivande per le pappette per io io appena nascerà e magari ci andrò tre volte da unieuro perché avendo un figlio che nasce certo che ti chiami Clara lo sanno a Lorenzo Damiano ti ha chiesto come ti chiami va bene allora la valutazione che bisogna compiere è si può avere un atteggiamento moralista se si è senza morale lo ripeto i ministri dicono no a andare all'unieuro no alle sigarette nel gatto e vinci e con la pillola ai cinque giorni dopo ministro della salute quella è una spesa morale 27 euro per Ella One e per la triptorelina che è un'altra cosa che interessa alla ministra della salute si possono spendere i soldi e invece per pillole preservativi facciamo quelli che vogliono distribuire gratis in regione Lombardia lì si può si può spendere Cannabis Light neanche io la conosco sta tranquillo eh brava ehm allora adesso amore papà deve dire due cose eh ti metti lì ok uffa dai fai fare la puntata a papà allora come dice bene Marimar il tema è la Cannabis Light al Cannabis Shop si può comprare anzi loro la vorrebbero liberalizzare se liberalizzassero la Cannabis poi con il reddito di maternità ci sarebbe morale sarebbe morale andarsi a comprare la dose di Cannabis ehm e il passaggio alle slot machine come dice Roberto Frecentese allora la questione Sabrina Bosu dice i grillini hanno uno strano concetto di moralità il tema è che non esiste moralità senza morale cioè l'idea di voler fare i moralisti dicendo le sigarette non le puoi comprare col reddito di cittadinanza è purtroppo basato su un concetto estremamente fragile se tu sei costruita se tu costruisci le dimensioni della moralità senza avere una cognizione di cos'è morale scadi nel moralismo e allora il governo diventa un po' ridicolo è un po' come ridicolo il balletto del passare dal 2,4 all'1,8 di sforamento di deficit dopo aver annunciato tre anni al 2,4 insomma si sta costruendo dice Anna Carrabba la morale degli ipocriti e questo davvero è qualcosa che spaventa uno stato etico senza morale è quanto di più spaventoso possa essere immaginato su alcuni giornali oggi si parla di un sapore di unione sovietica ecco questa forse è la definizione giusta il moralismo senza morale sembra davvero molto simile a un criterio sovietico di controllo dei comportamenti delle persone che spaventa dal punto di vista culturale Danilo Bassan ripeto oggi Danilo ha firmato l'editoriale sulla croce sul reddito di maternità e quotiente familiare quelli che sarebbero stati i nostri interventi in manovra economica Danilo Bassan dice giustamente che è una morale che non è interessata alle persone esattamente è un moralismo quindi un moralismo davvero preoccupante e sbagliata Giovanni dice la morale naturale insida nell'uomo tutti conosciamo ciò che è bene e ciò che è male Chiara Ardente ricorda che vogliono legalizzare la prostituzione poi dopo si potrebbe usare la card del reddito di cittadinanza per movimentare così l'economia molto arguta la riflessione di Chiara Ardente che ricordiamo essere la nostra amica siciliana la militante siciliana Geraci saluto Giovanni Fiori saluto Monica Vitali che dice sono senza morale senza radici questo credo sia il tema fondamentale della puntata di oggi di Stampe Vangelo attenzione all'approccio moralistico che è un po' tutto l'approccio del Movimento 5 Stelle il Movimento 5 Stelle ha questo approccio di questo genere ti grida in faccia a onestà poi a Roma i primi che assumono sono tutti finiti in galera dice di essere interessato a far salire il popolo contro la casta e si è fatto casta egli stesso ora ha interesse a disegnare una strana morale pubblica priva di radice culturale etica e dunque è moralismo pedicoloso moralismo questo è ciò che noi abbiamo provato a sottolineare come popolo della famiglia indicando invece quelle iniziative che consideriamo assolutamente centrali per una crescita valoriale pensiamo alla citazione appunto dell'editoriale di oggi di Danilo Bassan sul quotidiano La Croce del reddito di maternità e del quotiente familiare il moralismo va a braccetto con pietismo e assistenzialismo dice Roberto Ranaldo e ha perfettamente ragione Sabrina Bosu dice sono profondamente ingannati ed è vero anche questo chi contesta la presenza di mia figlia in diretta lo dico insomma è una presenza dovuta alla malattia di mia figlia in questi giorni e la diretta andava fatta comunque giustamente lei voleva partecipare ha letto il Vangelo in prima persona io sinceramente sono da papà anche orgoglioso di aver avuto la partecipazione di Clara a questa diretta e come si vede è fatta e ce l'ho ancora che come vedete è fatta nel salone di casa e dunque prevede che circolino diciamo così le persone che vivono in casa con molta spontaneità e tranquillità anche perché adesso è arrabbiata perché non la coinvolgo nella diretta insomma era ingestibile la diretta di Stampe Vangelo senza coinvolgere anche lei oggi saluto Enorora Pagano saluto Alberto Rossignoli Anna Ciappa i molti amici che stanno partecipando alla diretta di oggi vi chiedo di nuovo un like alla diretta per favore una condivisione sul vostro profilo e ecco brava e anche per favore l'indicazione e il link ai vostri amici in elenco Whatsapp elenco Messenger per far conoscere la posizione del popolo della famiglia intorno a questi temi Maria Pia di Girolamo dice non ti giustificare la famiglia è questa e a me è piaciuta grazie Maria Pia saluto Vittoria Polacci saluto Claudia Brignoli Stefano Sigali Eleonora Nicotera un abbraccio a tutti voi siamo famiglia anche nelle dirette come dice Anna Russo giustissimo saluto Salvatore Restuccia Alessandra Trigila che ha scritto un editoriale sul quotidiano La Croce qualche giorno fa sul tema della scuola ci stiamo occupando di singoli temi sul quotidiano La Croce vi dico sempre di seguirlo leggere e approfondire dunque le nostre tematiche su quella che è la nostra gazzetta ufficiale l'editoriale di ieri era molto importante firmato da Brienz e Rotellini oggi Danilo Bassanna si stanno sperimentando diciamo così molti autori diciamo anche nuovi Roberto Frecentese Don Massimo Lapponi anche scrive spesso sul quotidiano insomma siamo in tanti a cercare di fare elaborazione culturale che diventa poi posizione politica del popolo della famiglia saluto anche Elena Di Pietra Gioia Bianchi Ilaria Giurlani Salvatore Restuccia vi ringrazio molto per la partecipazione a Tripla Cifra ringraziamo di questo perché tutte le puntate di Stampevangelo ottengono una grande attenzione quella che viene considerata l'attenzione diciamo importante sui social che è la Tripla Tripla Cifra cioè tripli like più di 100 significa tripla tripli commenti e tripli condivisioni quindi con la Tripla Tripla Cifra più quelle che seguono in diretta sono sempre anche qui in Tripla Cifra riusciamo a comunicare a molte migliaia di persone le idee che proponiamo qui da Stampa e Vangelo è arrivato anche Danilo Nonardi che lo salutiamo Maria Giovanna Sousa vero Eleonora Nicotera ed eccoci qua Lorenzo Ramiano ha visto la foto di ieri di papà con Salvini ieri sono stato in televisione abbiamo parlato di differenza di genere a Canale 5 io non ti ho visto tu non mi hai visto perché stavi a scuola non ti eri ancora ammalata e quindi papà stava al mattino 5 a discutere sul fatto così particolare che le mamme sono diverse dai papà pensa un po' che hai dovuto dire quelli che dicono che papà e mamma sono la stessa cosa non è vero brava è abbastanza evidente che non è vero però papà deve andare in televisione a dirlo perché alle persone adulte invece sembra normale dire il contrario perché la mamma non ha la barba ecco è una cosa abbastanza evidente diciamo per fortuna i bambini hanno chiare le differenze di genere diciamo insomma che differenze sono e differenze restano io ho provato a dirlo anche ieri a Canale 5 poi ieri c'è stato un incontro negli studi di Canale 5 con il vicepremier Matteo Salvini a cui ho rappresentato le nostre istanze come popolo della famiglia sul DEF sulla nota aggiuntiva al documento di economia e finanza ho chiesto esplicitamente il regio di maternità ho chiesto soldi per le famiglie proprio molto banalmente ho avuto rassicurazioni generiche devo dire la vita dal vicepremier che ha detto che al ministero economia e finanza al MEF sono un po' duri di comprendonio ma lavorerà per recuperare denari su questo tipo di impegno è stata una conversazione diciamo alla fine non astiosa abbiamo svolto il nostro lavoro in maniera diciamo corretta cioè facendo pressione su chi è al governo per ottenere il massimo possibile avendo un'occasione d'incontro altre ce ne saranno tanto ci incrociamo in più di uno studio televisivo specialmente con il vicepremier saluto Maria Marrosu Jacopo Pioli pensa ci scrive dalla Cina Jacopo Pioli che sta lì con i suoi figli in Cina guarda ti saluta ciao bella Clara lui sta in Cina pensa sta in terra di missione bravissimo Jacopo Pioli salutiamo Anna Ciappa che dice brava Clara ripartiamo dall'ABC c'è anche Romana Cordova vedi che scrive che sei bellissima perché tu sei bellissima adesso andate via dal video se no poi accusano papà di utilizzare lo sguardo della figlia perché? eh perché sono folli che ti devo dire la gente è matta che è giusto attenzione ecco sfondiamo tutto c'è ragione Lucio Simonetti ricorda la legge immorale fatta in fretta e furia da Pd e 5 stelle con il voto anche ricordo di Maurizio Rubi eh non ce lo dimostriamo mai la cosiddetta eutanasia che all'italiana si chiama Biotestamento saluto Piera Giacometti ci segue anche Chiara da Vienna dall'Austria anche qui persone che ci seguono dall'estero a cui vogliamo particolarmente bene salutiamo Carlo c'è zio Carlo anche è di là che ci segue c'è Mauro Pollo è di là lo so c'è Claudia Brignoli amore bello e allora un saluto a tutti gli amici che ci stanno seguendo ricordando le questioni chiave di questa puntata intanto il Vangelo di Matteo letto da Clara di oggi secondo me molto bello e fondamentale venite a noi venite a me voi che siete affaticati e oppressi il tema fondamentale della nostra attenzione agli ultimi che è illuminata però sul piano etico se vogliamo dire da un valore fondante che è l'incontro con Cristo il piano religioso è lì che si forma la dimensione etica del nostro impegno l'idea del moralismo senza morale che invece è proposto da questo governo che dice non ti comprare delle sigarette non andare da uni euro non prendere gratte e vinci ti mandiamo al controllo la finanza se prendi lo spremi agrumi ma poi ti fa comprare la triptorelina la camna bislight la pillola ai 5 giorni dopo 27 euro per rendere ulteriormente milionaria la ECR e a farma e e lì non ha nulla da dire lì non c'è moralità appunto perché sono moralisti senza morale e poi il tema del genere che abbiamo affrontato ieri l'identità di genere come sempre come sapete c'è la nostra scritta no gender nelle scuole che è la scritta da parte di Stefano che era scritta che abbiamo sul nostro simbolo e dunque la battaglia sul gender è evidentemente sempre la battaglia centrale Nicola Di Matteo dice giustamente che Barzelletta l'Italia di Pulcinella infatti anche le cifre del DEF sono cambiate l'hanno annunciato ieri lo trovate la sintesi sul quotidiano La Croce di oggi dal 2.4 siamo scesi all'1.8 nel 2021 quindi come capite cambia tutto affinché nulla cambi ma la verità è che restano dei senza morale questo è il tema fondamentale e preoccupante perché i moralisti senza morale possono fare solo danni cosa vogliono moralizzare se poi favoriscono la morte dice Mauro Chialastri esattamente una riflessione puntuale su ciò che sta accadendo mentre Anna Maria De Maio scrive sono i nuovi farisei ipocriti sepolcri i biancati questo è il rischio reale che va correndo questo governo appunto il governo dei moralisti senza morale il governo Arlecchino Pulcinella direbbe appunto Nicola Di Matteo Daniela Tascini giustamente chiede che San Francesco grande padrono ci aiuti a lottare senza vacilare mai per il nostro paese per il bene della famiglia questo è ciò che noi stiamo compiendo in un percorso complesso faticoso che ovviamente coinvolge anche le nostre famiglie come si vede in questo momento fare stampa in Vangelo se la bambina è malata se la mamma ha degli impegni fuori vuol dire farla in questa maniera e noi siamo famiglia sempre non famiglia ogni tanto non famiglia a intermittenza saluto Cecilia Bini saluto Maria Pia di Girolamo che cita giustamente Tomasi Lappenusa il gatto pardo tutto cambia affinché tutto resti invariato c'è Stefania Ventura sono molti amici a seguire Popolo Famiglia TV dunque Stampe Vangelo la trasmissione che apre il paninsesso di PDF TV al mattino è arrivato anche Andrea Brenna del PDF Como prezioso militante e dirigente di partito che ritroverò spero il 17 all'Assemblea Nazionale del PDF che si terrà al palazzetto delle carte geografiche prima però tutti in udienza dal Santo Padre e da Papa Francesco alle ore 10 in piazza San Pietro Silvia Lodatti augura di guarire presto dopo aver finito di taggare tutti gli amici alla partecipazione di questa diretta io ringrazio anche Ettore Bianchi che con Niccolò Marino è arrivato ora alla diretta riepilogo i temi attenti alla moralità al moralismo senza moralità a quelli che non affondano in nessuna dimensione etica reale la nostra battaglia per gli ultimi affonda sul messaggio evangelico a lì la nostra radice è lì che si fonda l'etica è lì che c'è l'invito a andare verso gli affaticati e oppressi e perché poi è Cristo che è l'incontro vivificante lì c'è una dimensione etica che va anche al di là della nostra esistenza stessa e lì c'è dunque una dimensione morale che poi è la dimensione morale che pervade la moralità diffusa ma rischia di diventare moralismo se invece in realtà lontana da un piano etico reale il piano etico reale lo abbiamo indicato questo è il governo della canna bislight della triptorelina della prostituzione legalizzata della pillola di cinque giorni dopo pubblicizzata allora bisogna decidere dove sta dove si colloca effettivamente la radice morale di un'azione di governo si colloca per esempio nel dire numeri che sono numeri veri non cambiarli da un giorno all'altro come hanno fatto con il DEF portando da 2,4 a 1,8 lo sforamento di deficit potrebbe persino essere una cosa buona ma allora perché dichiarare il 2,4 tre giorni fa per poi scendere all'1,8 insomma c'è davvero un tentativo di fare il gioco delle tre carte perenne e il reddito di cittadinanza viene dimezzato se hai la proprietà di casa va a un milione di stranieri naturalizzati va pure ai rom il reddito di cittadinanza allora bisogna comprendere se uno che dichiaratamente non lavora e ruba ottiene il reddito di cittadinanza insomma bisogna stare molto attenti al tema che Vito Pietro Loporcaro giustamente sintetizza con comunisti immorali o luogo comunisti che sono poi i più pericolosi di tutti la radice sovietica è evidenziata su alcuni quotidiani oggi particolare sul libero di questo moralismo del reddito di cittadinanza che può essere speso solo per spese morali ecco questa è una cosa che secondo me dai quotidiani di oggi prendiamo in termini positivi perché è una riflessione che aiuta la nostra riflessione e quindi è utile alla riflessione collettiva il 17 ci sarà la diretta vedremo di organizzarla in qualche modo anche se so che al palazzetto abbiamo dei problemi per la connessione ma adesso vedremo comunque la registreremo ci sarà Radio Radicale credo quindi registrerà l'Assemblea Nazionale e sarà alla fine fruibile per tutti arriva anche Roberto Mura da Pisa c'è Francesca Rambaldi c'è Francesco Garroni Parisi uno dei dirigenti più preziosi del PDF di Roma vi ringrazio davvero tutti c'è Cristina Zaccanti del PDF Piemonte ladri che diventano cittadini e cittadini derubati c'è Venere Fiorenza di Leo salutiamo anche il marito Emanuele di Leo saluto davvero tutti voi che siete rimasti insomma molto fedelmente in tripla cifra tutta la puntata quindi vuol dire che Clara ha attirato i nostri amici a non andare via dalla diretta bravissima saluto anche Davide Trani Sabina Bosu chiede ma poi chi dovrebbe essere preposta a decidere cos'è morale e cosa non lo è esattamente la questione centrale buono nomastico a Francesco Garroni Parisi oggi è San Francesco e allora auguri a tutti Francesco vero? si auguri a tutti Francesco e anche al Papa Papa Francesco io ne conosco tre di Francesco ne conosci il re di Francesco? mamma mia come sei io ne conosco tanti e gli faccio gli auguri a tutti Francesco oggi loro nomastico e oggi ricordiamo anche San Francesco da Sisi brava eh che è uno dei nostri santi preferiti perché parlava con gli animali vero amore? che gli diceva? sono belli sono belli vero? si la storia del lupo cattivo eh e che fa Francesco al lupo cattivo? lo fa diventare buono lo fa diventare buono eh quella è la cosa bella questa è l'etica capito? eh prenderli cattivi e farli diventare buoni giusto? eh allora salutiamo anche Marilisa Tessari che ricorda che TV 2000 fa le dirette delle udienze dal Papa salutiamo ovviamente Francesco parlano d'Italia come ricorda bene Vito Pietro Loporcaro c'è un Francesco che arriva a guardarci si chiama Francesco Portone eh gli facciamo gli auguri anche a Francesco Portone io vi ringrazio molto per questa puntata un po' particolare come avete capito per esigenze familiari inevitabilmente è stata una puntata così spero che però i concetti visto ce ne sono due eh i concetti siano stati eh in qualche modo trasmessi spero che vi sia piaciuta la puntata di ieri eh a canale 5 è stata credo utile per ribadire che se c'è da difendere l'ovvietà cioè che l'uomo è diverso dalla donna se c'è da difendere l'ideologia eh da combattere l'ideologia gender ecco noi siamo sempre in prima fila e alla fine inevitabilmente non possono che cercare noi ehm saluto Patrizia Stile ecco qui pdf Veneto ehm spero che insomma ecco anche il recupero della puntata di canale 5 sia stato utile a tutti voi tramite il video messo dalla pdf tv eh ieri c'era stata pure la proiezione su pdf tv dell'intervista che ho dato a Radio Cusano Campus sono giorni in cui ci cercano molto quindi eh cercate anche quell'intervista sono 20 minuti in cui ho detto alcune cose abbastanza importanti e la trovate sempre sulla pagina pdf tv eh domani ultima puntata settimanale di ehm Stampe Vangelo ci ritroviamo appunto domani Chiara Ardente ricorda un bellissimo post di Danilo su San Francesco e segnale il link per andare a seguirlo salutiamo anche Andrea Domenici che non ha simpatia per il popolo e la famiglia né per il papà però è venuto a seguirci quindi lo salutiamo saluto Rossella Paone Anna Ciappa saluto Danilo Bassanna ricordando sempre che è suo oggi l'editoriale sul quotidiano La Croce noi ci ritroviamo domani per l'ultima puntata di Stampe Vangelo della settimana ehm c'è anche Gabriella Violi che spero che abbia appare imparato come si fa a fare la condivisione un saluto anche a Francesca Visconti da Maria Di Nolfi buona giornata è tutta anche da anche da Clara eh le saluta le stiamo chiudendo le saluti ciao buona giornata a tutti cari amici della PDF di Vuga cari amici di Stampe Vangelo buona giornata assolutamente a quelli che hanno seguito questa puntata un po' particolare di Stampe Vangelo vi ricordiamo se vi è piaciuto un like alla diretta una condivisione sul vostro profilo che sapete fare? prendete il link e mandatelo anche a tutti i vostri amici per seguire le cose che abbiamo detto qui a Stampe Vangelo e anche per vedere una volta una voce diversa che ha letto il Vangelo fra un po' non farò uno tutto mio ah uno show tutto di Clara sulla PDF TV va bene? no parlerà di qualcos'altro va bene non di cose da grandi e noiosi ecco benissimo un saluto da Maria Di Nolfi e da Clara a Di Nolfi un abbraccio anche io mi chiamo Kicca ti chiami Kicca? hai cambiato nome? no è il mio soprannome ah il tuo soprannome è da scuola? sì ho capito tutti Kicca ti chiamano? io sono Kicca Cristofere Kicco e Diego Kocco ecco Kicca Kicco e Kocco benissimo siamo la famiglia C la famiglia C Emanuela Pongiluppi ha messo il link all'intervista da Diogusano se mette anche il link all'intervista ieri fatta a Canale 5 sarà utile vi ringrazio per l'attenzione da Maria Di Nolfi una buona giornata a tutti ciao 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 ciao